Io ragazzi non so cosa dire e grazie che siamo arrivati a 10.000 iscritti. Grazie di cuore, io non ho parole, quindi grazie di tutto. Abbiamo chiamato e facciamo una challenge, e grazie al gruppo, quella di Magic al gruppo Raro. Grazie di cuore, io non ho più parole, grazie, grazie tantissimo che mi seguite. Io veramente grazie di cuore a voi. Dopo uscita l'altro video, alle 6.30 e con Mauro. Io a Mauro gli ringrazio di cuore che mi ha fatto arrivare la vedo qua grande al sugo io. Allora, già mi sono rimane, e già lo vedo sempre quella ingumbero, ingumbero famoso, perché io sono famoso sul canale. Grazie di tutto, e quindi niente, ragazzi, solo questo. Grazie di tutto. Ciao signori. Grazie.